Buonasera, domenica 22 marzo. Ci sono parecchie novità che riguardano la lotta al coronavirus e che quindi ovviamente riguardano anche le nostre vite direttamente. Cerco di elencarle. Innanzitutto adesso è vietato alle persone trasferirsi oppure spostarsi con trasporto pubblico o trasporto privato in un altro comune. Sostanzialmente ci si può spostare fuori dal comune esclusivamente per motivi di salute, di lavoro oppure di assoluta urgenza che però deve essere comprovata, bisogna riuscire a provarlo. Quindi non si può usare il treno, non si può usare l'aereo, il bus o l'auto per andare altrove. Questa disposizione probabilmente è sorta perché adesso con le altre disposizioni che vedremo qualcuno magari poteva avere la balzana idea di prendere e andarsene, visto che la propria fabbrica rimane chiusa, prendere e andarsene magari in ferie. Ecco, questo non è possibile farlo. Sono sospese tutte le attività produttive e commerciali, produttive quindi sono le fabbriche per capirci e anche commerciali, salvo quelle indispensabili e c'è un elenco allegato che dopo magari cercheremo di vedere che elenca quali sono le attività che devono rimanere aperte. Tutte le altre devono essere chiuse. Tuttavia, anche se sono chiuse, possono continuare diciamo a lavorare qualora sia possibile fare il lavoro a distanza col cosiddetto smart working, lavoro agile eccetera eccetera. Le attività professionali non sono sospese e quindi continuano, però devono utilizzare come sempre le solite modalità di lavoro agile, i soliti standard igienico-sanitari e quindi devono cercare diciamo di evitare gli assembramenti. Le pubbliche amministrazioni rimangono aperte e così anche i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali, però anche qui viene privilegiato, anzi diventa la modalità obbligatoria, lo smart working, quindi il lavoro a distanza, ovviamente restano chiusi come sempre musei e luoghi della cultura, le scuole, i luoghi di istruzione eccetera eccetera. Tutte queste disposizioni e anche le disposizioni che vi avevo illustrato nei giorni scorsi, come per esempio la chiusura dei parchi, adesso hanno tutte la stessa scadenza direi finalmente che è quella del 3 aprile, quindi queste disposizioni valgono da lunedì 23 marzo fino al 3 aprile. Vi prego quindi di attenervi scrupolosamente a queste disposizioni, sapete che il virus è difficile da abbattere, continuano a salire i contagi, fra poco si dovrebbero vedere i primi effetti di queste misure di contenimento, queste misure sono ulteriori proprio perché abbiamo bisogno di dare una spinta ancora più forte contro il virus, quindi vi chiedo di fare la vostra parte, ognuno di noi deve fare la propria parte per mantenere, diciamo, per riuscire ad arginare il diffondersi di questo contagio. Quindi mi raccomando seguite solo canali ufficiali, fate quello che vi è richiesto per cortesia e portate tanta tanta pazienza. Stiamo facendo tutti molta molta fatica nel rimanere isolati, nel rimanere chiusi, ma è uno sforzo che dobbiamo fare per tornare alle nostre vite normali, quindi cerchiamo di tenere duro, vi ringrazio anzi per il fatto che tenete duro, per quello che state facendo e ringrazio ovviamente soprattutto le persone che sono in prima linea e che in qualche modo stanno lottando per difendere la nostra salute. Grazie a tutti loro, grazie a tutti voi, buona serata.